Ok, saluto tutti ragazzi, sono sempre il vostro Vincenzo Siamo su Dashiro Ragazzi, questo oggi vi devo parlare di alcune cose molto molto importanti Ovvero ragazzi, che se noi fuggiamo queste, possiamo ottenere un'armatura come questa Vabbè, poi abbiamo anche questa Questa qui abbiamo Cos'altro abbiamo? Abbiamo questo bracciale e così via E vabbè ragazzi, c'è una stazione di Dashiro Grazie 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 Grazie